Thomas Schirò, 25 aprile 2000 Thomas Schirò, nato il 25 aprile 2000, è un centrocampista offensivo dell'Inter primavera. E' uno dei centrocampisti più prolifici del campionato. Dopo la trafila nel settore giovanile interista, nella stagione 2017-2018 inizia a giocare con continuità con la formazione Andare 19. Non è sempre titolare, ma riesce a ritagliarsi uno spazio importante, collezionando alla fine dell'anno 15 presenze nel campionato, 7 nel torneo di Viareggio e 3 negli Out League, dove segna anche una rete contro l'Aisberg, il 22 novembre del 2017. Nella stagione seguente, 2018-2019, prende in mano il centrocampo interista. Gioca da protagonista una grande stagione, che vede l'Inter perdere la finale scudetto con l'Atalanta. Tra il campionato, Viareggio, Supercoppa, Coppa Italia e gli Out League, sono ben 41 le presenze nel campo del centrocampista italiano, che alla fine va a segnare tre occasioni e confeziona 5 assist per i compagni. Nell'ultimo anno, prima dello stop, la sua presenza in campo si fa sentire soprattutto sotto rete. Gioca 27 incontri distribuiti tra campionato, Coppa e gli Out League, andando a segnone a 7 occasioni e diventando uno dei centrocampisti più decisivi del campionato. Poche, viceversa, le presenze per il centrocampista con le selezioni nazionali azzurre, con solo 12 apparizioni con Under 15, 16, 18 e 19. Dall'appunto di vista tecnico-tattico, Thomas Schiroe è un centrocampista moderno, bravo nell'impostazione grazie ad una tecnica sopraffina ed un'ottima visione di gioco, ma anche in fase di interdizione, potendo contare su dinamicità e fisicità. Possiede un ottimo tiro con entrambi i piedi, caratteristica che gli consente di essere spesso decisivo negli ultimi 16 metri, come dimostra la stagione appena conclusa. Anche per lui il cammino nella primavera è giunto alla termine, ed ora è il momento di confrontarsi con il calcio che conta. Anche per lui il cammino nella primavera è giusto.